I primi asparagi dell'anno, si cominciano a vedere, in realtà sono già andato un paio di volte a fare le prime scoperte, però questo è il primo video, ne approfitto per salutare tutti, sperando che le situazioni migliori sotto tutti i punti di vista, sperando che arrivi presto alla fine della primavera e che ci porti i nostri amati funghetti, ciao a tutti! Ecco un bel asparaggino, io raccolgo solo le punte, in realtà la parte sotto, molti la staccano dal terreno, io preferisco raccogliere solo la parte in cima che poi mangerò, sia per ridurre i tempi di preparazione una volta a casa, ma anche secondo me per evitare di rovinare la pianta sotto, ma su questo non sono esperto, chiedo parere se qualcuno sa dirmi meglio, dai bene, poi il asparaggino comincia, speriamo bene per tutta l'annata! Per un po' anche noi fungaioli dovremmo stare a casa, adesso mi accontenterò del giardino, i boschi possono attendere!